Io ho inseguito per diversi anni i nomadi, l'anno scorso non ci sono riuscito e quest'anno per fortuna l'ho portato a compimento e abbiamo condiviso con lui la tappa Giulianova. Si prevede un massiccio pubblico, quindi auguriamoci che adesso ci mettiamo al lavoro e vedremo quale potrebbe essere la soluzione migliore. Il resto della festa diciamo subito che abbiamo preso per il 22 d'aprile la banda di Ailano che accompagnerà la processione e poi sparare il concerto serale nella chiesa di Sant'Antonio. Per il 21 stiamo ancora facendo, ancora non abbiamo preso nulla però qualcosa prenderemo. Poi ci siamo sentiti con l'assessore Di Carlo che giustamente vorrebbe allungare la festa fino al 26 visto che il 25 è festa e il 26 è pure festa. Quindi probabilmente, dico probabilmente, ma lui ha ragione, probabilmente non sappiamo se compatibilmente con le risorse finanziarie metteremo qualcosa il 25, il 26 per far sì che la festa si allunghi fino al 26. Le giostre rimarranno, al contrario degli altri anni, rimarranno fino al 26 quindi è un'attrazione in più, è un momento per fare festa. Per concludere devo dire che l'amministrazione comunale tutta, il sindaco in primis, ci sta molto 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 vicino quest'anno, al contrario degli altri anni ci ha promesso un contributo e sicuramente ci sarà elargito. Quindi io li ringrazio a nome del comitato festa che ci stiamo vicino e ci risolvono tanti problemi. Poi faccio un appello alla cittadinanza di starsi vicino perché abbiamo bisogno di aiuto in questo momento perché organizzare è molto 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 difficile.